facciamo una prova la sta facendo così questa c'è te qua la cosa del computer con la webcam del computer ah certo, allora non si vede tanto bene ah già così siamo dal vivo su youtube si, se qualcuno scrive spunta qua a destra e per avere gli iscritti cose scrivi qualcosa per rispondere no? questo deve rimanere qua per rispondere ti sentono già che stai parlando ora c'è una persona che sta guardando questi sono questi sono e mi piace, questi sono le persone e qua se qualcuno scrive rispondo a quale allora puoi fare allora penso che deve avere mille cose buonasera buonasera a tutti e la musica per inserire la musica non lo può fare la musica d'acqua la puoi mettere che fai così come lo fai però un'altra dovrebbe non suonare no un altro youtube lo puoi mettere non suonare non suonare non suonare non suonare non suonare ti vedi lo stesso se no la fai dal telefono che è meglio anche dal telefono la puoi fare e qua metti la musica ah la fai dal telefono e qua metti la musica se no se la vuoi fare sul computer il computer stesso se la vuoi fare nel computer metti le basi nel telefono con lo spinotto al contrario la fai così al contrario tipo che qua ti vedono e qua legge le parole nel telefono con lo spinotto nel telefono ah al contrario dipende come la vuoi fare tu se la vuoi fare nel telefono che sono i minuti si quali sono i minuti ah allora c'è una persona che ci sta guarda nel telefono vabbè la chiudiamo per ora va bene grazie a tutti termine termine termine